5,8 milioni di euro di ristori per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, i circoli, le fondazioni del terzo settore. È stato pubblicato dalla Regione Toscana l'avviso pubblico per la concessione di contributi per fronteggiare la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19. I 5,8 milioni sono le risorse ministeriali assegnate alla Toscana e aventi diritto hanno 20 giorni per presentare le domande e potranno ottenere fino a 15 mila euro di contributi per le spese sostenute. È un bando che prova a dare supporto alle difficoltà che queste realtà straordinarie della nostra Regione stanno incontrando. Sono la nostra rete di comunità, di supporto che naturalmente nella fase Covid ha visto ridurre anche parte delle loro attività normali legate proprio alla necessità di un distanziamento fisico che vede molte delle loro attività chiuse. Ma nello stesso tempo queste realtà non hanno smesso di operare nel nostro territorio per contenere le difficoltà legate all'emergenza Covid. Questo bando era molto atteso ed è una boccata d'ossigeno ad un settore in difficoltà che in quest'anno ha pagato un tributo pesante come i circoli ricreativi, presidi sociali sul territorio e importanti per la coesione delle comunità che hanno dovuto sospendere la loro attività o addirittura chiudere. Vogliamo continuare a dimostrare che sono parte integrante del nostro essere Regione, parte integrante un'infrastruttura, io l'ho definita, di quello che è il nostro welfare di comunità. Welfare significa non solamente andare a rispondere ai bisogni, sicuramente in maniera prioritaria a questo, ma significa anche dare opportunità di socializzazione alle nostre comunità. e vogliamo quindi che rimangano in grado di esserlo, di esserlo adesso e dopo, adesso per quello che stanno facendo e dopo perché avremo molto bisogno di comunità che si ricostruiscono e che ritornano ad essere solidali fra di loro e che quindi, ho già detto in altre occasioni, che questo sia solo un distanziamento fisico necessario e non una disgregazione delle nostre comunità. La presentazione della domanda per ottenere il contributo dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, collegandosi all'indirizzo che vedete in sovrimpressione.